All'ottavo piano dell'edificio di via Orsi al Vomero, sgomberato a seguito del cedimento dei solai dei piani superiori la settimana scorsa, c'è un superattico in vendita da luglio. Sull'appartamento panoramico, 5 locali, 930 metri quadrati di superficie, 3 bagni, pendeva una sentenza di abbattimento della Cassazione. I proprietari hanno chiesto e ottenuto il condono. Va precisato che la sentenza di abbattimento risalente a svariati anni fa riguardava motivazioni attinenti al decoro estetico dello stabile e non alla sua staticità. La struttura incriminata non è in cemento, ma fatta di travi, roba molto leggera. Insomma, non ci sarebbero nessi causali tra l'esistenza del superattico dell'ottavo piano e il rischio crollo dell'edificio di via Orsi 18. Ma su questo si esprimeranno gli inquirenti che sono al lavoro. Quel che è certo per il momento è che due pilastri dello stabile hanno riportato uno schiacciamento con problemi che si sono riversati a cascata su tutto l'edificio. Al momento c'è da sciogliere il nodo delle famiglie sfollate, almeno una trentina, che chiedono di sapere quando potranno rientrare nelle loro case.